Cominciamo dall'ariete. Vi aspetta una giornata densa di impegni. I compiti cui dovrete attendere vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Toro, una bella rassettata alla casa, qualche coccola tributata a voi stessi, magari una visita ad amici che non vedete da un po'. Per avvicinare una persona che vi intriga da tempo invece, evitate di essere troppo diretti. Gemelli, l'ambiente è favorevole ma il nervosismo è controproducente. Attenti a non farvi sfuggire di bocca parole di cui potreste pentirvi amaramente. La vostra condizione fisica necessita invece di molte cure e attenzioni. Cancro, belle notizie sul piano finanziario. In arrivo guadagni inattesi o la piacevole scoperta di avere qualche vecchio credito da recuperare. Giornata perfetta anche per fare nuove conoscenze. Leone, discreto andamento della giornata. Emotivamente giocherete in difesa ma in compenso nelle faccende pratiche sarete più concreti e costruttivi. Questioni di eredità o relative alla gestione di denaro in famiglia necessitano un intervento da parte vostra. Vergine, attraversate una fase di transizione. Dopo aver demolito ciò che non aveva più ragione di essere, iniziate una solida ricostruzione. Bilancia, le finanze e l'economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata all'improvvisazione e all'appoggio della fortuna. Evitate di isolarvi e fate partecipi gli altri dei vostri desideri, perplessità e speranze per il futuro. Scorpione, con un minimo di concentrazione, grazie a un bel colpo d'occhio, sarete in grado di organizzare il lavoro in modo davvero ineccepibile. Sagittario, dovrete impostare il lavoro con sistematicità al fine di evitare sgradite sorprese. Se presa dal verso giusto, la persona che amate sa essere comprensiva, perciò non esitate ad aprirvi. Sfogarvi vi farà sentire meglio. Capricorno, sfornate progetti ambiziosi. Andranno a buon fine. I contatti per studio per lavoro sono carichi di belle novità. Notte intrigante. Acquario, costretti a volare rasoterra dalle contingenze odierne da qualche problema che vi toglie il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza. Bagheggiate spazi aperti, cullate sogni di libertà e vi complicate la vita ricorrendo ciò che non si può avere. Pesci, certe alzate d'ingegno sono controproducenti. Non rifiutate per orgoglio l'aiuto di un collega, specie se si tratta di un buon consiglio. L'interferenza dei parenti gioca invece un ruolo chiave nella relazione, disturbandola inutilmente. Grazie.